Buongiorno, grazie. Sono Valerio Canziano, presidente di Urasam Lombardia, coordinamento regionale delle associazioni della Lombardia. Come avrete visto nel filmato, Urasam Lombardia ha partecipato alla promozione e alla costituzione dell'ufficio utenti lombardico. Urasam Lombardia ha partecipato alla promozione dell'ufficio utenti Lombardia. Volevo solo aggiungere dopo questa bella presentazione che purtroppo questo ufficio non rispecchia tutta la realtà della regione Lombardia. Queste sono le eccellenze, le cose più belle che in Lombardia si stanno facendo. In Lombardia ci sono tante altre cose invece che meritano di essere raccontate ma in senso negativo. Allora io vorrei qui alcune criticità metterle in risalto, poche ma alcune credo importanti. Stamattina si è parlato di forme dissimulate di internamento. in Lombardia ci sono tante. Il totale dei posti letto di residenti sono circa 4.150 in Lombardia. tra queste ci sono sì le comunità di 20 posti letto ma ci sono anche luoghi di 100, 200, 400 persone che sono più o meno un po' un richiamo all'internamento precedente dove riabilizzazione se ne fa poca si fa interna in intrattenimento e si crea cronicità. Quei posti letto che poi non sono mai sufficienti, non bastano mai e assorbono il 70% e più di risorse delle spese rivolte alla salute mentale. Stamattina è stato presentato nel tabello dal dottor Starace che la regione Lombardia finanzia spende il 4% delle spese della salute. I dati che risultano a me non è il 4% ma il 3-5%. Queste sono alcune delle situazioni. L'altro dato che va indicato è la percentuale elevata di contenzioni che ci sono in regione Lombardia. Abbiamo dei dati forniti da regione Lombardia come dati medi che sono circa sul 12% delle persone ricoverate vengono contenute. C'è un massimo di SPDC che va dall'0, un minimo che va dall'0 a un massimo del 34%. Quindi capite che all'interno di questo quello che noi vorremmo chiedere, vorremmo sapere e l'abbiamo anche chiesto recentemente venerdì scorso in un convegno dedicato alla salute mentale, che questi dati forniti in questo modo ci servono poco. Abbiamo bisogno dei dati per ogni single SPDC se vogliamo iniziare a impostare un lavoro non solo di diminuzione della contenzione ma arrivare all'eliminazione. Avevamo insistito nell'ultima riforma salute mentale di inserire come uno degli obiettivi l'eliminazione della contenzione. Durante la notte qualcuno ha trasformato l'eliminazione in diminuzione della contenzione. Non demorgeremo comunque per cercare di portare avanti questo obiettivo. Un altro elemento che ci sembra pericoloso in regione dell'ombardia è legato alla privatizzazione. C'è un processo che è iniziato già vent'anni fa distinta alla privatizzazione, non solo alle comunità ma adesso anche tutto quello che viene considerato il problema della cronicità. In questo problema della cronicità spesso ci finiscono poi anche le persone che hanno un disagio psicico. Quindi delegare qualcuno, un gestore, un gestore che poi non sono gestori piccoli ma sono gestori che gestiscono migliaia e migliaia di persone e di pazienti dove poi il rapporto con la cura sparisce. Il rapporto, quello che si è parlato stamattina qui, il progetto individuale con il budget di salute, viene sparito. È vero che ci sono anche... c'è uno dei punti anche invece da sottolineare in senso positivo, sono delle esperimentazioni che si sta iniziando a fare sui budget di salute. A Lombardia si sta rendendo conto che i costi sono elevati, che il modello che ha instaurato di residenzialità viene a costare molto, non è più sostenibile. Quindi sarete conto della necessità di avviare dei cambiamenti. Cambiamenti che però sono molto difficili una volta che si è instaurato un modello di questo tipo. Terminerai qui per non prendere altro tempo. Io non mi aspettavo di intervenire al convegno, ringrazio anche dell'invito di Gisella. Mi sento solo di dirvi due cose se le condividete. Io sono un operatore, sono uno psichiatra, operatore di una SST pubblica, credo che gli operatori oggi abbiano una grandissima responsabilità, proprio oggi a 40 anni dalla legge 180. Ci sono delle cose nuove, dobbiamo essere capaci di vederle, coglierle e valorizzarle. E mi riferisco solo qua a due esempi. Il primo riguarda il sapere esperenziale, di cui è centrato anche quel filmato che abbiamo portato dalla Lombardia. Dobbiamo essere capaci di cogliere, costruire. Probabilmente ci sono ancora tanti aspetti che dobbiamo sviluppare e approfondire, anche se esistono già sul territorio nazionale delle realtà, tra cui per esempio Trento ed altre, non solo Trento, anche in Lombardia il sapere esperenziale è valorizzato. Dobbiamo capire come poterlo introdurre meglio, come diceva giustamente Paolino al termine del suo filmato, smettere di curare per incominciare a prendersi cura delle persone e quindi integrare al meglio il sapere esperenziale con il sapere cosiddetto tecnico nostro. E la seconda cosa, autori di reato, pazienti autori di reato. Io mi sentirei come operatore sanitario di dire che non tutti gli operatori sanitari sono spaventati nell'occuparsi anche di questa popolazione, di questa utenza. Per la mia piccolissima esperienza personale nel mio territorio posso dire che abbiamo avuto esperienze anche positive e incoraggianti di utenti autori di reato in libertà vigilata inserite nelle nostre strutture comunitarie insieme agli altri utenti che i reati non li avevano commessi, con trattamenti assolutamente identici, in strutture completamente aperte e nel contesto cittadino di Pavia. Uno dei pochi esempi di buone prassi. Stamattina si parlava di la necessità di creare delle teorie, io credo che non si tratta tanto di creare teorie quanto di creare delle buone prassi e dalle buone prassi poi definire le teorie. Grazie. 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 Grazie.